Una vera e propria scampia nella città dello Stretto. La polizia di Messina ha arrestato 39 persone appartenenti a due organizzazioni dedicate al traffico di droga attive nel rione di Giostra. Il quartiere era diventato teatro di una guerra tra due clan per affermare il proprio controllo sul mercato degli stupefacenti. Le indagini condotte dalla squadra mobile coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Messina hanno consentito di far luce su alcuni tentati omicidi a colpi d'arma da fuoco avvenuti fra il 2016 e il 2017. Il servizio veniva fornito 24 ore su 24, lo schema era fisso, ricezione dell'ordine davanti alla porta, l'attesa dell'acquirente sul pianerottolo e la consegna della droga sempre all'esterno dell'abitazione. Una centrale dello spaccio perfettamente organizzata.